Ciao Fede. Ciao, buongiorno. Puntata speciale. Puntate speciali. Puntate speciali. Esatto. Che cos'è questa cosa? Spieghiamolo rapidamente. Sì. Vi abbiamo ascoltato. Noi riceviamo veramente decine di messaggi, mail, messaggi su Instagram, su Facebook, dappertutto, di gente che dice a me piacerebbe tanto cambiare lavoro. C'ho un problema. C'ho un problema. O al lavoro non mi trovo bene oppure lo vorrei cambiare o entrambe le cose. È un problema comune, no? Comunissimo. Non mi piace il lavoro. Che faccio? Cambio? Non cambio? Sto dove sto? E allora cosa abbiamo pensato? Cioè vogliamo dare la nostra community, solo le nostre due voci che continuano a dire sempre la stessa cosa. Che non ne sappiamo niente di questa cosa. Quelle cose motivazionali. Lascia il lavoro, lo puoi fare. Se rimani senza lavoro paga Edo. Invece cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato di creare un piccolo percorso di tre episodi chiamando una bravissima coach che si chiama Margeau che adesso vi presenteremo e grazie a lei cosa faremo? Cercheremo di capire quali possono essere gli step per capire dove siamo, capire chi siamo e magari capire anche come muoverci da quella situazione che non ci piace tanto. Sì, è un bel esperimento che sono tre puntate, usciranno una alla settimana, adesso tra poco ascolterete la prima, piene di spunti perché non è una semplice intervista ma è proprio un piccolo percorso di coaching diverso da quello che faresti di persona ovviamente, ma dentro ci sono esercizi, cose da fare per cui se avete questa domanda di fondo voglio cambiare lavoro, che faccio? Non mi piace il mio lavoro, che faccio? Saranno delle puntate che vi daranno secondo noi un bel aiuto. Però Edo c'è una cosa importante, ci saranno degli esercizi da fare e si troveranno anche i pdf, insomma poi lo diremo per bene, ecco vi chiediamo di darci fiducia e provare a farli questi esercizi, noi li abbiamo fatti, li abbiamo testati noi per primi ed effettivamente ti apro la mente, se ti chiariscono le idee tantissime. Cioè funzionano veramente tanto, quindi aspettiamo i vostri feedback, vi chiediamo questo piccolo impegno ma adesso dentro la puntata. Vai, andiamo! Ciao Margeo! Ciao Edo, ciao Federico! Ciao, ciao, ciao! Senti, prima di iniziare questa nostra sessione full immersion di coaching, partiamo un po' dalle basi, prendiamo tutto proprio dall'abicino e tu sei un coach. Esatto, sì. Ok, però dovessi dare una definizione, cosa fa un coach, cosa diresti? Allora, il coach è quello a cui tu vai a fare riferimento quando senti che hai bisogno di essere accompagnato per cambiare qualcosa nel tuo presente. Ok, ci piace. Cambiamento, ambito personale, lavorativo? Allora ci sono varie tipologie di ambiti dove puoi fare coaching, sia la sfera lavorativa che è la tua sfera più personale. Infatti senti anche parlare oggi di life coach che intervengono più nella sfera personale. Posso dire, io ho fatto un coaching, sono stato un coachee di Margeo, quindi scopriamo le carte insomma. Attenzione, attenzione ragazzi. Poi mi direi come sono andato. Allora, tu le devi dire, non io. Esatto, qui un motivo c'è. No, per spiegare, diciamo, incontri delle persone, ma per fare un, diciamo, una classifica, no? Dei motivi per cui le persone ti scrivono e iniziano a fare un percorso. Quali sono le tre secondo te più frequenti? Io mi occupo di business coaching e career coaching, quindi più nella sfera quindi del professionale. Quindi le domande in generale sono, voglio cambiare lavoro, ma non so bene da che punto iniziare. Ok. Questo può essere una prima domanda. Un'altra domanda è, non mi sento bene nel mio lavoro. Ok. E vorrei sentirmi bene nel mio lavoro, quindi da che parte si inizia? Me ne vado, non me ne vado. Esatto, poi me ne vado, non me ne vado e poi a volte scopri certe cose che non è per forza l'andare via. Certo. E poi hai anche tutto un punto su la tua sfera lavorativa che in generale non sei né soddisfatto a livello di senso, sai, di fulfillment né a livello di prospettive di carriera, sei proprio, ti senti un po' in un punto di stallo, ecco. Questa cosa con la pandemia è aumentata? Aumentata sembra che siamo, sai, nell'effetto contagioso, ma la verità è che la gente nel primo lockdown ha avuto un po' più di tempo per pensare e fermarsi piuttosto che essere nella ruota del cricetto, senza avere il tempo di fermarsi e pensare. E questo step back che è stato un po' forzato ha fatto sì che la gente finalmente ha preso il tempo di pensare e alcuni piuttosto che lasciarsi andare nella cosa che io chiamo la centrifuga hanno detto aspetta, faccio stop, rifletto un po', sono io che ho il mio destino in mano, sono io che scelgo. E quindi sì, questo è un effetto che abbiamo visto che è aumentato. La motivazione per iniziare un percorso con un coach spesso è anche per aiutarti a fare delle riflessioni che da solo non riesci a fare. Giusto. Cioè che il coach non è che fa il compito per te, no? Ti dice, vai lì tipo oracolo, allora devo cambiare lavoro o no? Sì, no, ti dà degli stimi. Quello è il cartomante. Il cartomante che se ti interessa c'è anche quello, però è un altro mestiere, è un altro mestiere, no? Infatti la roba che guarda a me piace molto nel coaching è il fatto che io non vengo a darti dei consigli, il meccanismo del coach è proprio di far emergere dentro di te tutto un percorso per andare a scatenare, no non scatenare, scattare qualche cosa nel tuo modo di pensare e magari portare l'accento su qualcosa che tu non vedi, perché oggi sei tra virgolette chiuso in una perspettiva, non riesci a vedere tutte le altre perspettive e quindi è quello che va a fare il coach tenendo anche... Sì, sì, è l'allenatore. Esatto, è proprio l'allenatore e che è anche lì come l'allenatore sportivo per tenerti anche l'energia alta, perché quando uno inizia un percorso di cambiamento ha bisogno di energia, quindi sapere ritrovare questa ferva diciamo per mettere in atto quello che ti servirà. Sì, sì. Io se posso dire la mia, è un momento diciamo di vita in cui ho insomma ho subito un grosso cambiamento e sai ti ritrovi in quella situazione di tante possibilità, no? Sì. Da che parte vado? Per cui come capita tanti ti ritrovi a bloccarti, dici di qua, di là, di su, di giù, per cui diciamo mi ha aiutato molto Margeau nel farmi le domande giuste, darmi esercizi giusti in modo tale che arrivassi io un po' alla soluzione. Infatti quando facevamo le sessioni proprio vedevo che io le facevo delle domande, ma secondo te cosa dovrei fare? Lei dice no, non ti rispondo. Adesso ti do una cosa con cui tu ragioni per, e la cosa interessante insomma è dell'esperienza con un coach che io non avevo mai fatto, è che hai anche, ti prendi un po' un impegno per cui sei anche obbligato tra virgolette, ma con te stesso a farle questi compiti tra virgolette, queste riflessioni, no? Perché poi nella solitudine della tua stanza quando ti metti a riflettere dici vabbè dai ma ci penso un'altra volta, no? Invece lì poi se hai come come Margeau che dice oh mi raccomando è mercoledì prossimo ricordati di, poi mi mandava durante il weekend il reminder dire oh ti sei ricordato di fare quell'esercizio, per cui è anche uno che ti stimola a fare delle cose. Sì sì è anche quello il punto, è portarti a maggior consapevolezza, il coach ti accompagna per questo e effettivamente a metterti in moto poi. Margeau brevemente la tua storia com'è? Perché insomma è interessante, no eh sì non voglio partire dall'infanzia che magari può essere interessante a Parigi, no? Di dove sei a Parigi giusto? Sì sono andata a Parigi e suona bene. Ecco saltiamo, esatto. Quella professionale l'ultima diciamo che ti ha portato a diventare coach e tu hai avuto un'esperienza lunga dall'altra parte come manager? Esatto, io ho avuto una lunga esperienza dentro le multinazionali quando ero a Milano per quasi 15 anni, passando poi da un'azienda all'altra, crescendo nel mondo del marketing fino poi a diventare direttore marketing. Beh è un'esperienza che a me mi ha portato tanto, imparato tanto e è stato per me qualcosa di molto molto costruttivo, però a un certo punto per quello che è capitato a me, poi ognuno il suo percorso, avevo bisogno di diverse cose girate più su diciamo l'aiutare questa presa di consapevolezza che mi piaceva molto farlo come manager con il mio team o i miei colleghi o anche i miei capi e ho voluto andare oltre a questo e quindi concentrarmi su questo, quindi ho preso uno step back e ho deciso di lasciare il lavoro dove ero per poi andare a formarmi come coach, prendere certificazioni eccetera eccetera e poi mi sono messo in proprio all'epoca a Milano in questa sfera. Una domanda, nel passaggio da direttrice di marketing a oddio lascio tutto e divento qualcos'altro, hai usato un coach o hai fatto tutto da sola? Autocoaching, no? No, allora diciamo che in quel passaggio ho deciso di intraprendere la formazione di coach e questo mi è stato anche d'aiuto perché nel percorso di diventare un coach tu ti fai coachare. Ti fai coachare bello. Sì, non so se vuoi, quel gergo così, no? Sembra dai le capocciate a un coach sembra. Sì esatto, ti fai coach, autococciare, sì sì, eccetera per imparare c'è uno che ti insegna. Sì sì, quindi hai, cioè siccome tu stesso vivi il percorso, io vivendolo l'ho vissuto a 360 gradi perché oltre ad imparare a fare il coach per prendere le certificazioni e così via, mi ha aiutato anche a prendere consapevolezza di tante cose per portarmi dove volevo andare. Molto interessante. Senti allora tu nella vita di tutti i giorni incontri persone che arrivano da te con un problema, una domanda, un nodo da sciogliere diciamo, gli fai fare un percorso come è stato con me di varie settimane in cui sono momenti di confronto, momenti in cui fai i compiti a casa, momenti di riflessione e poi insomma si spera che alla fine di questo percorso uno abbia le idee più chiare, abbia risolto il problema, abbia scelto da che parte andare. Ti abbiamo chiamato perché vorremmo provare a fare la stessa cosa anche qui. Ovviamente non su di noi ma diciamo vorremmo estendere questa possibilità a tutte le persone che ci ascoltano, no? Per cui l'idea qual è? Di partire da uno dei problemi che ci hai già citato, che però noi sentiamo essere un po' più urgente tra la nostra community e provare a fare insieme un po' di esercizi o comunque seguire un po' il tuo percorso, capire un po' cosa ci puoi consigliare per partire da qui e arrivare magari a una soluzione. Sì, fare un mini percorso diciamo. Sì, esatto, che è molto più semplice di ovviamente quello che fai di persona, lo sintetizzeremo, salteremo dei passaggi ma magari riusciamo comunque a dare un valore alle persone, no? Sì, sì, volontieri. Il tema qual è Fede? Il tema è diciamo... È classico. È abbastanza classico ma come hai detto tu giustamente è quello che emerge di più da chi ci ascolta, cioè non mi piace il mio lavoro, non sono abbastanza soddisfatto del mio lavoro, sento che il mio lavoro non ha senso, non mi riempie, non è quello giusto e quindi la grande domanda è che faccio? Rimango o me ne vado? Se rimango posso cambiare le cose? La risposta è dentro di te ma è sbagliata, se invece me ne vado cosa faccio? Avrò il coraggio di cambiare, avrò l'energia di cambiare, no? Quindi questa è la cosa che sentiamo più forte come domanda e quindi vorremmo concentrarci proprio su questa. Certo. Quindi simuliamo esattamente questo. Un nostro ascoltatore viene da te e ti dice esattamente quello che ho appena detto, cioè io non sono soddisfatto con il mio lavoro e visto che il lavoro prende molto del tempo della nostra vita è chiaro che è uno dei nodi da sciogliere nel caso in cui non siamo soddisfatti. Assolutamente. Qual è la prima cosa che gli dici? Allora guarda, la prima cosa che lui deve capire e sul quale io lo devo guidare è prendere consapevolezza del suo contesto. Quindi con delle domande articolate e diversi esercizi si va a capire veramente la sua emozione, il come si sente al lavoro. Cos'è che gli fa dire che non gli piace più il lavoro? Questo è importante. Su questo punto si va un po' in effetto imbuto e si va a capire semplicemente che cos'è che non ti piace nel tuo lavoro. Ok, perché spesso molti si fermano a un malessere diffuso, non mi piace, ma già non fa questo esercizio di andiamo a capire in maniera specifica da dove arriva. Esatto, esatto. Magari è un effetto boule de neige, palla di neve si dice in francese, un qualcosa che va poi a intaccare diciamo tutto il resto. Allora si prova a capire meglio e ovviamente è lui che deve capire meglio. Quindi ci sono una serie di domande del tipo magari se stai facendo un lavoro nuovo, perché anche lì se stai facendo un lavoro nuovo è normale di avere un po' un periodo all'inizio di adattamento e allora si va a lavorare più su questa parte lì. Magari che cos'è? C'è qualcosa che è cambiato nel tuo lavoro? Nuovo capo, nuovo referente. Esatto, quindi c'è un nuovo capo o magari è arrivato un nuovo collega e da lì anche si va un po' a investigare e quindi vado ad aiutarlo a trovare il punto che magari può creare un certo disagio. Quindi magari è il modo di fare di un nuovo capo, il come si interagisce con un nuovo collega o ancora magari sei nell'azienda dove sei sempre stato ultimamente ma con una nuova mansione. È una nuova mansione, ok, quindi ti senti a disagio, non ti senti che hai tutto sotto mano mentre prima eri il king di quello che stavi facendo, ora nuova mansione. Ti senti a disagio. Esatto e quindi magari si va a capire, hai tutti i tool per fare bene questo nuovo lavoro, magari hai della formazione da chiedere, eccetera eccetera. Ok. Quindi si va un po' a chiedere così diverse cose. Un'ultima domanda anche importante è tipo se magari stai facendo un nuovo lavoro in un nuovo ambiente, magari hai cambiato azienda. E ovviamente per ognuno di noi la parola nuovo ha un timing diverso, no? Perché c'è chi ha appena cambiato le prime settimane, chi magari è nei primi sei mesi, ma ognuno ha il suo ritmo e quindi così. In questa prima fase prendo il mio taccuino e rispondo a tutta una serie di domande che sono queste o scrivo io personalmente anche tutte le cose che non mi vanno bene? Come può essere fatto? Sì, allora il consiglio lì è di sempre avere un quaderno vicino, se poi sei un amante di un'applicazione digitale, prenditi l'applicazione digitale, però è molto importante lo scrivere perché va ad attivare tante cose importanti, vi passo i dettagli, ma è bello poter mettersi lì a proprio scrivere di mano veramente, no? E quindi mentre vai a rispondere a queste domande, ok? Quindi ti prendi un momento e di nuovo cominci a pensare al tuo lavoro. Dici ok, sono in un nuovo lavoro, in una nuova mansione? Sì, no, se sì, come mi sento su quello. C'è qualcosa di nuovo che è capitato nell'azienda? Collega, capo e così via. Magari c'è una situazione particolare, non lo so, esatto, due aziende che fanno fusione piuttosto che varie possibilità così, no? Quindi in questo primo esercizio l'obiettivo è scrivere un elenco diciamo più lungo possibile, i fattori che in qualche modo possono aver condizionato questo tuo malessere e ti fermi lì diciamo. Esatto, sì, ti fermi lì e allora solo, non è che deve essere lungo, deve essere come te la senti tu, quindi puoi scrivere così e poi di nuovo non si va a sviscerare un malessere, nel senso che se è una roba così forte, allora lì vai da un altro professionista. Però in quel caso lì è veramente per dire ok, ho questo disagio al lavoro, vado a capire che cos'è, ecco. Guarda, posso fermarmi un secondo? Perché secondo me adesso è importante dire una cosa, cioè con Margeau abbiamo costruito un percorso e adesso faccio il cattivo, li dovete fare questi esercizi, perché altrimenti è tutto inutile, perché il problema è sempre quello, no? Che bello, che belle cose, prima o poi lo farò. Quindi il nostro invito è quello di fare questi esercizi nell'ordine che Margeau ci in qualche modo indicherà, perché così effettivamente potete portarvi a casa qualcosa di importante da questo percorso. Per cui per fare questo non vi lasceremo soli e quindi in descrizione trovate un link dal quale potete scaricare dei pdf che Margeau ha preparato per voi, quindi non avete nessuna scusa per dire no ma lo faccio domani, non lo faccio, non ho il quaderno, quindi mi raccomando raccomandazione dal nonno Federico, fate queste cose, altrimenti ascoltare questa puntata avrà il 10% di effetto e noi vogliamo che abbia il 150. Sono stato convincente Margeau? Sì, sono più che d'accordo con te Fede e per quello una roba, prendetevi già un momento, prendete i vostri calendari, aprite Apple, quel che volete, fissate già dentro un'ora per il prossimo sabato o quando vi è più comodo e vi mettete lì e fate gli esercizi. In questi casi si dice mettete in pausa il podcast, aprite l'app calendario e poi uno si è andato. No non è vero, non è vero, non è vero. Oh ma è uscito. Esatto, mentre vai fuori dici ah ma aspetta c'è una news, però fatelo, fatelo, fatelo. Il primo esercizio è mappare il contesto. Esatto, sì. Riceviamo una serie di domande. Ecco se io in questa fase di questo esercizio individuo il punto specifico che è un rapporto con il mio capo che non mi lascia esprimere oppure tanti ci dicono faccio delle mansioni che non mi lasciano spazio alla mia creatività. Insomma ho chiarissimo il problema. Da lì non devo far niente in questa fase. Cioè l'ho scritta, mi fermo, punto e stop. Per ora è capire esattamente dove è mettere il misurino, no? Dopo vi vedremo cosa fare. Ok, perfetto. Esercizio 1 è andato. Punto. Mettiamo caso, Bivio, che io non abbia un evento nuovo scatenante, un evento specifico, io non riesca a individuare qual è la causa di questa mia voglia di andarmene o no. Però non sto bene. Cos'altro posso fare? Sì, allora lì c'è un'altra cosa che si può capire e andare a capire meglio i tuoi valori. Quindi per questo c'è un esercizio molto carino perché se ti dico così ciao Edo, ciao Fede, quali sono i vostri tre valori? Subito non è che per forza mi sai rispondere. Valori è inteso cosa per te importante nella vita? Esatto, le cose per te importante nella vita. Quindi c'è chi ha un senso forte di giustizia, chi ha un senso forse di libertà, di umanità, di non so, il coraggio, queste cose così, no? Però non è sempre facile di sapere quali sono per ognuno di noi stessi i nostri valori. Posso dire una cosa? Sì, certo. Io l'ho fatto con te questo esercizio, ma questo l'abbiamo già parlato in passato, no? Primo riferimento, l'abbiamo intervistato una volta a Tlon, gruppo che si occupa di filosofia, che faceva un esercizio simile nelle aziende, no? Elencate i vostri valori e A, il 90% non sapeva cosa fossero i valori, ma si capisce, ma B, in tanti scrivevano i valori, quelli giusti, quelli che devi scrivere, qual è il tuo valore? La famiglia, l'amicizia, la lealtà, oppure l'etica, quelle cose generiche. L'etica, no? Qui dico una cosa, quando Margeau, ai tempi, mi aveva dato questo esercizio un po' razionale, ho detto, cià che vado su Google e mi guardo una lista di valori, ma non per copiare, no? Ma per capire e scopri che c'è una quantità di valori incredibile, che spesso, anche solo leggendoli, capisci di averne uno ma non avevi mai considerato. Cioè, per esempio, ci sono anche i valori, tra virgolette, negativi, cioè la competizione, no? Che non è mia come cosa, però è un valore. Cioè, ci sono persone che reputano importante la propria vita essere competitivi rispetto agli altri. Quindi non solo la generosità è giusto da mettere nella lista, ma anche dei valori che se riusciamo a trovare nella lista vorrei leggerli, perché insomma è interessante far capire che nei valori ci sono anche cose... Ecco, elenco valori, scusate se lo faccio questa roba, però c'è per esempio l'abilità è un valore, dimmi se è giusto Margeau, eh? L'affetto, l'affidabilità, l'amicizia ovviamente, però c'è anche l'astuzia, no? L'autocontrollo, la comprensione, vado giù veloce, la credibilità, la creatività, la fama, ecco per dire la fama. Magari per tanti aspirare a essere famoso non è importante, per tanti altri lo vediamo tutti i giorni sui social, è un valore, no? Per cui ecco, tu dici, elenca le cose più importanti per te nella vita, questo è il primo passo. Che come dici te è difficile da fare, per quello che c'è un esercizio un po' così per aiutarti? Quindi prima domanda è inizi e buttami giù cinque valori. Ok. Vai sulla lista di Edo se hai voglia e va bene. Top five, top five, della più importante, ok. Esatto. Poi un'altra cosa da capire è ti metto diciamo in situazione per aiutarti a capire quali sono i tuoi valori e quindi una domanda importante è ok, pensi a una persona che stimi, che può essere una persona famosa, che c'entra qualcosa con il tuo mondo lavorativo, famosa nel senso famosa da tutti, non solo il famoso Steve Jobs, va bene, piuttosto che qualcuno semplicemente famoso per te perché nel tuo ambito lavorativo, che sia nella tua azienda o un tuo collega o un tuo partner lavorativo, che stimi, perché c'è qualcosa che fa questa persona che dici oh che figo. Ok. Quindi identifichi prima questa persona, di nuovo può anche essere una persona che non hai mai incontrato, c'è anche mai Elon Musk per esempio. Elon Musk mi piace tantissimo la pronuncia. La pronuncia. Francese sul... Scusate il francese inglese, sai com'è? Eh ma siete formidabili su... ma pure noi è qui. E quindi, cioè, puoi immaginare anche una persona così, perché magari lo segui, lo vedi in intervista, segui qualcosa di YouTube su lui e così via, no? Prendi questa persona e ora il punto è cosa che ti piace di questa persona. Ok, scrivere questa cosa. Esatto. Mi piace perché è ambizioso, mi piace perché... Il come parla, il come si presenta, la causa che sta portando avanti, cioè così. Tutto quello che ti viene per mente e il perché hai pensato a questa persona come una persona che stimi. Se stimi vuol dire che un pochino... Che riflette anche i tuoi valori, probabilmente. Esatto, esattamente. Quindi listi queste cinque cose che da questa persona ti piace veramente tanto. Ok. Poi da lì c'è un'altra domanda, esercizio, è immaginati essere lui, ok? Il come fa, come parla, eccetera. Quindi magari ti prepari per fare qualcosa come lo fa lui e così via. Poi alla fine di questo tu ti rifaccio la domanda, quindi ormai quali sono i tuoi cinque valori? Ok, diciamo che scrivendogli di getto e facendo questo secondo esercizio in cui elenco i valori di questo personaggio che stimo, diciamo che questi due esercizi mi aiutano a mettere un po' a fuoco quali sono le cose importanti per me. Esatto, perché vedrai che nell'ultima volta che ti chiedo di mettere avanti i tuoi cinque valori sarà un mix tra qualcosa delle prime e qualcosa delle nuove, o sarà solo le nuove o sarà ancora qualcos'altro. Ok. Scusami, Fede, esercizio veloce, tu cosa metteresti? Come cinque, magari i primi tre valori, cosa? Cali te, fraternità. No, io metterei... È difficile, è difficile. Eh lo so, infatti... Mi stavo aiutando con la persona di riferimento, questa cosa che ci diceva Margeau. E sai che non saprei tanto chi scegliere, sto andando molto nel passato, nelle persone appunto... Adesso sto leggendo tipo Memorie di Adriano, no? Ah, che bello. Molto, molto indietro. Però secondo me, per me un valore è l'equilibrio, forse, non so se è un valore, però per me è molto importante. Aspetta, guardo nella lista? Guarda nella lista. No, ma guarda, ce ne freghiamo nella lista, è una roba che devi sentire te. Per me un altro è non fare niente di male agli altri, quindi non calpestare i piedi alle persone. Questi due ci sono, e poi l'altro è cercare di costruire qualcosa di positivo per gli altri. Secondo me, sai qual è, ce n'è uno che c'è, ma non l'hai messo in cima, per il lavoro che fai? Sì. Che non sei dipendente, ma libero professionista, cioè a libertà anche. La libertà, sì, certo. Però quelli diciamo sono, cioè assolutamente ci sono. Sono quelli professionali, vengono dopo. No, ci sono, esatto, però sono nel gradino più basso. Per me adesso è un po' più, come si può dire, ambiziosa. Sì, tu, minimalismo. Ambiziosa, ma anche minimalismo sta nella seconda parte, cioè è più, capito, l'impatto nel mondo, lasciare qualcosa di positivo, mi sembra. Ah, ok. Cose da grandi. Guarda, Margeo, continuiamo io e te, perché mi sembra che vedo questa cosa non la regga, capito? Ti suggerisco anche i valori, vedi te. Io proprio come coach sono una pippa, cioè non dovrei proprio, sei il coach che dice, no, ma metti anche questo, ma che se non ce l'hai. Però sei ottimo come uomo Google, cioè ti metti lì. Fact checking faccio io. Googler, Googler. Quindi abbiamo fatto questa lista aiutandoci con questi esercizi. Che c'entra col lavoro, con l'azienda. Con l'azienda. Allora, prima tu hai preso consapevolezza dei tuoi valori, questo è quello che abbiamo fatto fino ad ora. L'altro step è, ok, prenditi un'altra pagina del tuo taccuino e su questo ci scrivi i valori che tu senti che ci sono nella tua azienda. Ah. Nella tua azienda, nel tuo ambito lavorativo, ovviamente ognuno si cala dov'è. Quindi, cos'è che c'è nel tuo ambito lavorativo che vedi attorno al non so, il freelance che c'è accanto alla tavola di co-worker, piuttosto che nell'azienda o tramite i tuoi clienti. Esatto, perché magari se tu sei tutto il giorno a lavorare presso un cliente e senti dei valori, li senti comunque, è quello che conta. Quindi, a seconda della tipologia del tuo lavoro, tu vai direttamente a farti questa domanda e ti scrivi i valori che tu senti. Ovviamente fuori dai valori che magari uno dice di rappresentare. Sì, quelli che metti sul sito, tipo veterina, quelli veri devi mettere. Possiamo fare un esempio banalissimo? Cioè, se io nei miei valori ho la salvaguarda del pianeta e poi la mia azienda, per fare quello che fa, lo distrugge. La shell. Forse questa cosa qui, no? Oppure, al contrario, la mia azienda invece è in prima linea su questo, devo cercare di fare quel tipo di ragionamento lì, corretto? Esattamente questo, perché tu, da un lato, un pochino prima abbiamo messo in evidenza i tuoi valori. Ok, ora hai messo in evidenza i valori dell'azienda e dopo devi guardare. Guarda un po' uno, guarda un po' l'altro. Quanto combaciano, dici? Esatto. Ah, fai un match. Ok. Fai un match e devi un po' vedere esattamente quanto combaciano. E lì sei un po' te che deve capire. E' 50-50? Mi basta questo 50-50? O no? Il fatto di aver realizzato che comunque 50 dei miei valori sono effettivamente dentro l'azienda e comunque mi ci rispecchio, magari ha un effetto su di me, perché mi dico, ah, non è tutto nero come pensavo fino a un po' di tempo fa. Quindi può essere una presa di consapevolezza importante. Cioè che poi può essere che basti quel 50, non è detto che debbano essere 100%, no? Assolutamente, perché questo lo sappiamo che c'è il mondo dei bacicuori, non so se esiste in Italia anche quello. Baci perugino. C'è sempre un qualcosino, no? Però è a ognuno di capire fino a dove è pronto a scendere in compromesso. Perché chi ha dei valori, per esempio, molto forti sull'area dell'umanità, della gentilezza, del sociale, eccetera, che si rende conto di essere in un'azienda che è mega competitiva, che se ne frega del benessere degli altri, del pianeta, o che ne so, di fronte al prodotto o al servizio, che mette in atto o quello che fa nell'azienda, allora lì magari la presa di consapevolezza è che dico, ah, ecco perché mi sento male. Allora magari vado a trovare lo stesso lavoro che sto facendo, ma magari in un altro ambito. Perché da lì vai a dissociare la funzione dall'ambiente lavorativo. Scusa Margio, ma tra tutte le persone che incontri e hai incontrato, no? In quanti, dopo aver fatto questo esercizio dei valori e dei valori dell'azienda, hanno un effetto illuminazione, no? Non ci avevo mai pensato. Perché la domanda che mi faccio è questa, ma non è chiaro a tutti questa cosa qua? Non è esplicito, faccio l'avvocato e il diavolo, no? Non è esplicito se hai un malessere nella società che c'è magari un disallineamento tra i tuoi valori e quelli dell'azienda? Dipende, ma in generale non è così esplicito. Perché tu sei così tanto a... non ti rendi conto che sei entrato in un cerchio un po' vizioso, perché la lamentella attira la lamentella, non riesci più a uscire della situazione e vedere un po', io dico andare nell'elicottero e vedere da sopra quello che veramente sta succedendo. E nella maggior parte dei casi, poi ovviamente ognuno è unico, ma hai tante persone che comunque dicono ok, allora non è così nero. Cioè non è così nero? Ti viene in mente un esempio di una persona che hai seguito che ha avuto questa reazione? Ma sì, per esempio c'è persone che a un certo punto si rendono conto che comunque per loro l'area della competizione è una roba che piace a loro e che non è per forza in posizione la competizione e il voler far bene alle persone. E allora anche questa presa di consapevolezza è importante, perché non c'è sempre questo mondo di dualità, no? Cioè sono due cose che possono convivere insieme, perché a te può piacere comunque avere questa voglia di essere il primo, di mostrare il buon esempio, eccetera. La vocazione ai risultati, eccetera, eccetera. Dall'altra parte questa cosa la metti al servizio del tuo secondo valore, esempio che è aiutare le persone. Questo è un grande esercizio di presa di consapevolezza, perché ognuno si rende conto alla fine, ah ecco, però alla fine in questa azienda ci sono perché? Beh perché alla fine a me la competizione piace. Scusami, ma quindi può succedere il caso in cui uno era partito all'inizio dicendo non mi piace il lavoro, voglio andarmene ma non ho il coraggio, non trovo motivazione, al ma forse non è così male, cioè ti arriva questa consapevolezza? Sì sì, si arriva. Comunque due valori ce li ho dei miei, il terzo quello che magari soffro, però due su tre ce li ho. Ci sento a compromesso, esatto, perché dall'altra parte c'è questo e questo che al finale è il punto del dito che va bene. E poi magari sai se c'è a volte ci possono essere cose di fronte a un capo che magari per X ragione dà fastidio, ma lì ci sono X ragione sul quale si può andare a fare un lavoro per far sì che va meglio. Sì, in maniera a risolvere il problema specifico. Sai perché è interessante? Perché è proprio, ti rendi conto, un po' come nelle relazioni magari, no? Che litighi con una persona e vedi solamente quella cosa sbagliata che fa e vedi nero rispetto alle altre dieci cose positive, no? Sì, sì. Quindi è proprio un esercizio di consapevolezza per dire, se rientri in questa casistica, adesso vediamo la seconda, che sì, quella roba di lui, di lei come azienda non mi piace, però mi sono ricordato che ha quelle altre due che sono molto importanti. Sì, questo è importante perché sai, oggi con i social e tutto, ora farò la nonna Margeau, sai, tutti mettono i post delle cose più fighe, no? Ah, certo. Cioè, è ok, però dai, lo sappiamo tutti, la vita vera non è così. Però il problema è che la gente se lo dimentica e per le tre persone che escono, che hanno cambiato vita e hanno fatto chissà che cosa, si fa una pubblicità miracolosa e tu hai l'impressione di non avere il coraggio di cambiare. No, non è quello. Può essere quello se veramente sei in disconfusione, diciamo, con i valori del tuo ambito lavorativo, eccetera, ok, ma la maggior parte dei casi è perché ti paragoni a qualcosa che... Sì, un modello perfetto che non esiste nella vita reale. C'è un'altra cosa interessante, secondo me, di questi primi esercizi di Margeau, che sono apparentemente molto semplici e per questo tendiamo sempre a non farli. Abbiamo questa cosa per cui cerchiamo sempre il metodo più assurdo, quello, no? Le 50 ore di corsi in cui devi fare... Invece no, devi solo fermarti, prenderti del tempo e rispondere a delle semplici domande che sembra appunto semplice, ma in realtà non lo è. Però bisogna partire da qui. Io questa cosa qui la sento su tante cose, cioè rifugiamo le cose semplici perché ci sembrano banali. In realtà vanno a lavorare proprio alla base del nostro essere, è così? Sì, e direi una roba per completare la tua è anche avere un po' di rigore, perché se tu vuoi cambiare qualcosa nella tua vita, tra virgolette, è facile lamentarti, no? Ma a un certo punto bisogna prendere il toro per le corne e le redine in mano, sei tu che le hai, e dire, ok, un po' di rigore ora, voglio cambiare qualcosa, perché voglio sentirmi più realizzato nel mio lavoro, nella mia vita, ci vuole un po' di rigore. Niente arriva senza un po' di rigore, un po' di disciplina, no? Quindi ti prendi un'ora alla settimana, inizia a farti questi esercizi, non iniziare a dire ogni giorno due ore, cioè non serve, inizia già a un'ora alla settimana, non è male, esatto, prendi un ritmo, ti metti in moto e vedrai che a forza di metterti in moto godannerai più abilità a prenderti il tempo per andare avanti, sì. Io adesso vorrei trattare il secondo caso, ho fatto l'esercizio dei valori e io ho, non so, affetto, allegria e amore, non lo so, ho preso proprio quelli più mielosi che ho trovato. Sei mai che buongiorno praticamente. Sì, esatto, vivo nel mondo di Candy Candy e la mia azienda è super competitiva, aggressiva, veloce, distrugge il mondo, come dire, non ci siamo, forse dovevi capirlo un attimo prima, però ecco, non ci siamo, adesso l'abbiamo un po' esagerata. E lì ho una conferma, diciamo, che c'è qualcosa che non va, quindi cosa? Sì, allora, no, lì se è così e che tu pensi che c'è un discostamento tale che non puoi scendere a compremesso su niente perché ti fa stare troppo male, effettivamente lì si può pensare, ok, cosa faccio? Uno è da capire se la menzione che hai, cioè il ruolo che ha, ti piace, ma che quindi l'azienda nel quale stai evolvendo non ti piace. Magari il lavoro che stai facendo, la tua menzione, potresti fare in un altro ambito. Ok? Quindi prima di dire me ne vado sull'isola deserta, ci sono miliardi di altri step possibile. Ok, devi cambiare per un'azienda similare in cui faccio la stessa cosa, ma l'ambiente, la cultura è differente. Esatto, in funzione del ruolo, della funzione, magari potresti esercitarla in un altro ambito lavorativo. Ok, certo. E quindi poi si può iniziare a indagare su quello per dire cambio azienda e provo di verificare bene anche durante il colloquio di ritrovare i valori che sono miei. E ci sta adesso senza entrare in un tema di recruiting, curriculum, ricerca e lavoro, che non è il tema di oggi, però tu dici se devi proporti a altre aziende non ricascare nello stesso errore, cioè cerca di verificare al di là dei social media se quell'azienda ha quei valori. Sì, esatto, perché non serve poi correre via per magari poi stare ancora più male, quindi si prende il tempo di capire bene e anche lì ci sono altre step di esercizi da fare e di domande da porsi per capire dove effettivamente andare. Volendo fare un po' il punto della situazione, no? Siamo partiti con un problema, non mi piace il mio lavoro, forse lo voglio cambiare, forse voglio cambiare le cose all'interno. Abbiamo mappato il contesto, abbiamo mappato i nostri valori, quelli della nostra azienda, ci siamo resi conto che probabilmente alcune cose devono cambiare o in maniera estrema cambio lavoro oppure in maniera magari meno estrema devo rendermi conto che le cose al lavoro vanno bene, magari devo aggiustare piccole cose. Adesso che facciamo? Nel senso che al di là di ci vediamo nel prossimo episodio probabilmente, però che dobbiamo fare? Cioè cosa ci manca adesso? Perché abbiamo le idee chiare su chi siamo, dove ci troviamo e cominciamo a intravedere anche che cosa vogliamo. Però qual è il nostro next step? Allora, il next step sarà di andare a capire il come andare a cambiare, che sia se scegli di rimanere nell'azienda che di andare via. Quindi dopo ti daremo degli strumenti per andare a cambiare le cose. Per ora, la prima cosa che devi fare è prenderti il tempo di fare i vari esercizi e di porti le varie domande che abbiamo raccontato ora. Per quello io ti consiglierei di farlo in due momenti diversi, perché comunque non sembra, ma abbiamo visto tanta roba. Quindi già il fatto di prenderti un momento e mappare bene il tuo contesto e farti sempre dietro ognuna delle domande i tuoi perché, ok? Questa è una tecnica di management, ma per sempre andare più in fondo. Fatti cinque perché. Rispondi alla domanda, ok, ma c'è un capo nuovo? Eh sì, c'è il capo nuovo. Perché? E rispondi qualcosa. E perché? E rispondi qualcos'altro. Questa cosa è dura, cioè è abbastanza, cioè è dura nel senso intendo nel tempo, no? Ci vuole un po' per farla. Quindi solo per questo esercizio ti prendi già un'ora buona perché vedrai che almeno un'ora te la prende. Poi la seconda cosa che abbiamo detto, quindi sui valori, di modo a capire, ok, quali sono i miei valori? Prendo una persona che stimo, quali sono i suoi valori? Quello sono alla fine davvero i miei valori? È un'altra roba. Fallo questo assieme a quali sono anche i valori dell'azienda che tu risenti e il matching o del tuo cliente, del tuo ambiente lavorativo, esatto, e fai il matching, cioè cosa combaccia e non combaccia. Posso dire una cosa? Io il secondo esercizio l'ho fatto in ambito freelance, ovviamente per la condizione in cui mi trovo, quindi non con l'azienda per cui lavoro, ma su un progetto che era un progetto che dovevo iniziare e che a pelle mi generava un po' di inquietudine e ansia, ma non riuscivo a capire perché. Cioè la pancia mi diceva non farlo, no? E la testa mi diceva no, fallo, che rifiuti sto lavoro, no? Per cui c'era questa battaglia tra la testa e la pancia e nessuno si metteva d'accordo, nel senso che da una parte devi fare un lavoro, dall'altra, insomma, no. E ho fatto tipo questo esercizio sui valori, ma applicato a un progetto, non tanto al cliente. Cioè i miei valori di quel momento erano magari di, non so come spiegare, leggerezza, nel senso di sentirti... Cioè di non infilarti in una situazione di lavoro complessa, incasinata, negativa. Sì, esatto. Una cosa per cui, ok, ho il controllo delle mie competenze, so quando inizia, quando finisce un progetto, so che posso far bene, per me era un valore in quel momento lì. E questo era un progetto molto sfidante, su delle tematiche difficili, con un arco temporale un po' indefinito, era di qualche mese. Era anche in creativity, praticamente. Era questo podcast. Però mappando già questa cosa, che sono i valori legati al progetto, che mi richiedeva i miei valori, la situazione mi è sembrata molto più chiara e già solo guardandola ho preso una decisione senza, più che altro rimorsi, no? Poi rischi di pentirti e dicevo dovevo prendere... Quindi hai detto di no? Ho detto di no a questo progetto, sì, sì. Questo è interessante, questo è interessante, bello. Che uno dice, ma il valore del progetto era sfidante, no? Ambizioso, che uno dice, ma è un valore positivo. Però ho scoperto che in quel momento, in quel periodo lì, per me, lo sfidante e l'ambizioso non andava bene. Per cui... Molto interessante. Però senza l'esercizio sarei rimasto a sbattere la testa contro il muro, ecco. Beh, io direi che ci dobbiamo... Allora, prima di tutto, gli esercizi. Guardate che passiamo tra i banchi. Uno per uno. A bacchettare. Passiamo tra i banchi a controllare. Non copiate, non googlate. Fate questo esercizio. E settimana prossima ci rivediamo con Margeau, perché non solo controlliamo i compiti, diamo i voti, ma andiamo sulla seconda parte. Come ci ha detto lei adesso, cioè ci darà gli strumenti per cambiarle queste cose. Adesso le abbiamo mappate. Adesso il next step è cambiamole. Quindi io non vedo l'ora, farò anche io gli esercizi. Grazie Edo, perché li farò su un progetto. E questa mi sembra un'ottima indicazione. E quindi grazie Margeau intanto e ci vediamo la prossima settimana. Grazie a voi. Ciao, ciao. 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 Grazie a tutti.